Con Federico Accornero poteva essere un'altra partita se quel tuo destro qualche centimetro più basso, eh Federico? Eh sì, sì, il primo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo aggredito subito il Catania, avendo due o tre occasioni per far gol. Purtroppo non si è riusciti a realizzare e per il secondo tempo siamo entrati un po' molli, loro ci hanno aggredito tanto e purtroppo è andata così. Ci dai un po' la tua chiave di interpretazione su questo cambio, Pescara primo tempo, Pescara secondo tempo, questo cambio di atteggiamento? Ma secondo me, appunto, come ho detto prima, al secondo tempo loro sono entrati molto più aggressivi rispetto al primo e ci hanno messo lì e noi non siamo riusciti più a giocare al nostro gioco e purtroppo poi su un po' di attenzione in più potevamo far meglio. Il primo tempo però prima mezz'ora bene, anzi benissimo, ma voi avete sentito Zemman, aveva passato Bugaro nello spogliatoio? Sì, sì, il mister è sempre con noi in contatto. Che vi ha detto? No, ha detto sempre di giocare come vuole lui, appunto, e cercare di realizzare il più possibile. Massimo Accornero, l'auricolare ti ascolta. No, niente, io voglio fare solo i complimenti perché nel primo tempo, insomma, dominare in quel modo a Catania con tanto pubblico non era facile. Peccato per la seconda parte del match l'unico neo non aver concretizzato quelle tre occasioni da gol create nel primo tempo, ma tu sei stato davvero molto sfortunato. Collo esterno su un recupero alto di Pellacani che ha disputato un gran primo tempo, il portiere era stato scavalcato. Lì si può parlare a ragione di sfortuna. Accornero. Sì, sì, appunto, il primo tempo non siamo stati bravi a realizzare le occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo è andata così, ma siamo pronti per domenica ad Ancona. No, siamo pronti per voi.